Siamo con Jacopo Fiorani, direttore artistico, ma in realtà il reinventore di questa festa, che prende un'eredità antica direi. Antica e importante, sì. Qui Novilara Artegusto è arrivata alla sua decima edizione, quindi per noi è un bellissimo traguardo, ma giustamente veniamo da un passato glorioso direi su Novilara, perché è una festa che si è iniziata a vedere già dalla fine degli anni 70, e poi si è evoluta, anche un po' persa, e noi l'abbiamo recuperata, volentemente, con tutti i nostri volontari, e ci siamo adoperati nel farlo nel miglior modo possibile, alzando un pochino anche il livello, rendendo un po' più contemporaneo, in questo senso, nel senso che il mangiare è sempre eccellente, le nostre signore sono fantastiche, perché sono il nostro patrimonio, che si fanno le tagliatelle a mano, e in più abbiamo aggiunto tutte queste bellissime cantine, che sono 38 quest'anno, molte anche da fuori provincia, per dare appunto un incoming, anche a far conoscere il nostro territorio e non solo al contrario, e in aggiunta abbiamo anche due chicche, se posso, una è quella dell'olio di Cartoceto, che anche quest'anno collabora con noi, e in più un'installazione artistica, anche grazie alla collaborazione con il quartiere 3 e il comune di Pesaro. La sfida grossa è stata quella di inserire l'arte, non solo come strumento così complementare di richiamo, tutte le sagre, tutte le feste hanno il momento musicale, hanno il momento spettacolare, eccetera, tu hai fatto questa scelta di inserirla nel titolo addirittura, per cui l'abbinamento parte dall'inizio, arte e gusto viaggiano in parallelo. Giustamente è stata un po' una sfida questa, anche perché Lovilara è conosciuta per una tradizione gastronomica molto importante, come dicevo, la sfida era richiamare questa tradizione anche sotto diversi aspetti, quindi quello culturale e anche artistico. In questa sfida, in questo gioco, abbiamo messo in scena un concorso letterario delle installazioni artistiche, tutte che abbiano comunque un tema legato a questo cappello che è Lovilara, che è il nostro contenitore, se vuoi, che è questo castello bellissimo, che noi abbiamo voluto valorizzare, dadogli appunto diversi spunti, per attrarre anche un pubblico più variegato, se vuoi. E questa è un po' la nostra sfida e il nostro obiettivo, è quello di continuare su questa linea. A dieci anni fa impressione, la doppia cifra, anche perché quando siamo partiti non ci credevamo, nel senso che era un'idea della comunità, di rimettersi insieme, in gioco. Arrivare a dieci anni ti fa capire che siamo abili, arruolati e concreti, anche perché purtroppo anche con il Covid e le varie difficoltà, anche molte realtà si sono anche perse sul nostro territorio, mentre noi siamo riusciti un po' a mantenerlo vivo e a raggiungere la doppia cifra, quindi insomma ancora di più un'emozione. Questa cosa del decennale era interessante da vivere e viverlo con un programma di tutto rispetto. In questo io penso che ci siamo veramente riusciti.